Siamo giunti alla sesta corsa, premio epilogo, è una prova ad inseguimento sui 2600 metri. Primo nastro per gli Ambest of Thor, Naxos del Ronco, Orleans OM, Nasti Reaf e Punta Renas Ranch. A 20 metri all'1 ok, Papercalf, Moriondo e Powell B. A 40 metri, Pancottina Bar, subito valido il primo segnale. Piccola incertezza per Nasti Reaf e Naxos del Ronco. Dal secondo nastro partito molto forte Powell B. Mentre Orleans OM va a condurre con lancio in 15-1. C'è l'errore di Punta Renas Ranch e allora in seconda posizione c'è Iambest of Thor a precedere Powell B. Poi anche Olonoké che è partita bene dal secondo nastro, ma Powell B sposta subito per andare a chiedere strada a Orleans OM. Che sulla distanza impegnativa preferisce naturalmente correre di rimessa. Mezzo giro in 38-4 con avvio da fermo, dunque buon ritmo. La quinta posizione è per Naxos del Ronco davanti a Moriondo, Papercalf, Nasti Reaf all'esterno. Poi ancora Pancottina Bar che rendeva 40 metri di penalità. In coda c'è Punta Renas Ranch rimessa. Powell B a comandare dopo mezzo miglio in 1-2-2. Nella sua scia Orleans OM davanti a Iambest of Thor, poi Olonoké. Quindi Naxos del Ronco, Nasti Reaf all'esterno. Con Olonoké che anticipa Moriondo e prende la scia di Nasti Reaf che risale ora al Salchi di Orleans OM. 1200 metri in 1-32 per Powell B nei confronti di Orleans OM. Iambest of Thor, Nasti Reaf all'esterno. Naxos del Ronco che ha all'esterno. Olonoké quindi Pancottina Bar e Moriondo in coda. Punta Renas Ranch e Papercalf. Powell B che comanda chiaramente anche all'attacco del giro finale dopo un miglio in 2-1-3. Si viaggia dunque sul piede dell'1-16 scarso. Con Orleans OM sempre in seconda posizione. con al Salchi Nasti Reaf lungo la corda sempre Iambest of Thor. Allargo anche Olonoké, Moriondo e gli altri lungo la corda. Naxos del Ronco, Pancottina Bar mentre sbaglia Papercalf. Powell B che allunga seguito sempre da Orleans OM. sposta ora dalla corda deciso Iambest of Thor che costringe in quarta ruota Moriondo con Orleans OM che attacca a fondo Powell B che sembra in difficoltà. Cerca spazio per linea interna Naxos del Ronco. All'esterno Iambest of Thor più in fuori ancora Moriondo mentre Orleans OM insiste su Powell B che prova a riprendersi lungo la corda. Quindi Naxos del Ronco, poi Moriondo. Orleans OM che passa nei confronti di Powell B. Deve guardarti da Naxos del Ronco, poi Moriondo e Powell B ora in fase calante. è passato a Orleans OM nei confronti Naxos del Ronco e Moriondo. In vantaggio c'è Orleans OM attaccata a Naxos del Ronco che insiste, passa e vince. Naxos del Ronco davanti a Orleans OM, poi Moriondo che tiene a bada la rincorsa di Papercalf ritornato fortissimo all'esterno. E dunque vittoria di Naxos del Ronco. Mario Minopoli Junior numero 2 davanti a Orleans OM, numero 3 Moriondo numero 8. Questo è l'arrivo ufficioso di questa sesta corsa, 2-3-8. La vittoria di Naxos del Ronco con Mario Minopoli Junior. La vittoria di Naxos del Ronco con Mario Minopoli Junior. La vittoria di Naxos del Ronco con Mario Minopoli Junior. La vittoria di Naxos del Ronco con Mario Minopoli Junior. La vittoria di Naxos del Ronco con Mario Minopoli Junior.